Sabato 18 dicembre la manifestazione nadale in carrela dà il via alle festività natalizie a Sennuri. Organizzato dalla Proloco Sennuri in collaborazione con l'amministrazione comunale, l'evento partirà dalle ore 18 e si protrarrà fino alle 2 di domenica e proporrà al pubblico una nottata di shopping, svago e intrattenimento, con un pensiero anche per i bambini. Un mercatino di strada con circa 30 stand sarà allestito in via Roma, nel tratto compreso tra via San Basilio e l'inizio della passeggiata Sicala. Qui i commercianti e gli artigiani esporranno le migliori produzioni locali. La Proloco proporrà caldearrosto, popcorn e zucchero filato. Per alietare i più piccoli e regalare un'avversa atmosfera natalizia, Babbo Natale sfilerà con la sua slitta per le vie del centro accompagnato dai suoi elfi. I numerosi esercizi pubblici che hanno aderito all'iniziativa diffonderanno un sottofondo musicale che contribuirà a creare il clima festivo. L'ingresso del pubblico al mercatino dovrà essere consentito solo ai possessori di Green Pass. Per questo i varchi saranno presidiati e controlli a campione saranno effettuati anche all'interno del percorso espositivo e nei locali con lo scopo di garantire la massima sicurezza possibile per il rispetto delle norme al contrasto della diffusione del Covid. Pur nelle grandi difficoltà che in questo periodo comporta organizzare gli eventi, volevamo essere presenti per lasciarsi alle spalle le ristrettezze dello scorso anno. Sappiamo quanto sia stato importante per tutti cercare di dare segnali di ripresa e in questa ottica la Notte Bianca vuole essere un importante momento di rilancio anche per le attività produttive e gli artigiani. Ci aspettiamo la collaborazione di tutti i partecipanti per far sì che siano rispettate le norme di sicurezza e non si metta a rischio la salute pubblica, commenta il presidente della Proloco Riccardo Sara. In questo delicato momento di emergenza sanitaria e di difficoltà economica è importante essere presenti e vicini alle nostre attività produttive, ai giovani e ai bambini. Con questa manifestazione vogliamo proprio lasciare dei messaggi di speranza e di ripresa, spiega la vice sindaca e assessora alla cultura Elena Cornalis.